Cari aspettatori del Giannizio Nero, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata XVI dedicata alla seconda guerra punica, vi avviso subito che stiamo avendo qualche problema tecnico e probabilmente non riuscirò a fare la puntata speciale dedicata anche ad Austerlitz, così vi dovete accusarmi di essere troppo filo Nicola Zotti, cercheremo comunque di recuperare tutto quanto domani. Intanto andiamo avanti con la nostra storia della seconda guerra punica, poi vedremo quello che succederà. Abbiamo lasciato Scipione che con un attacco notturno ha dato fuoco al campo dei Numidi, sotto gli ordini si face, obbligandogli a tornare indietro e abbiamo Asdrubale che ha provato ad aiutarlo, che anche lui ha subito fortissime perdite e che si è diretto verso Cartagine. A questo punto i cartaginesi si trovano nella situazione che per chi ci vede indifferita potrà vedere anche sull'immagine della puntata. I cartaginesi si trovano di nuovo con le forze separate, perché si face, è tornato abbondantemente lungo il corso del Bagadas e sta pensando molto di ritornare a casa e di disinteressarsi completamente della cosa di questi Romani, ci pensano i cartaginesi a questi Romani. Asdrubale ha recuperato buona parte del suo esercito e si trova di fronte a Cartagine e a leccarsi le ferite. Scipione non sta sbagliando una mossa. A questo punto i cartaginesi hanno molte possibilità davanti, in particolare quattro, che come sempre adesso vi propongo. Allora, a richiamare sia Annibale, che come sapete nel Bruzio, è in Italia, che Magone, che nel nord Italia sta continuando a provare con scarsi risultati a raccogliere nuovamente i Galli per combattere contro Roma, e mentre nell'attesa del loro arrivo sia l'esercito punico di Asdrubale che quello non umida di Siface è evitare qualunque scontro con Scipione. Basta, abbiamo già dato. Risposta B. Prendere l'esercito di Asdrubale e raggiungere Siface in modo da fare una nuova concentrazione di forze e contrastare nuovamente Scipione. C. Costituire Cartagine come nuovo nucleo di raccolta truppe, quindi Siface, vieni tu da noi, non veniamo noi da voi, di fare terra bruciata e rifugiarsi con tutti dentro a Cartagine in modo da obbligare Scipione a cingere ad assedio e si face problemi suoi. Quindi ribadisco. A. Richiamiamo Annibale e Magone e nel frattempo evitiamo ogni contatto con Scipione. B. Ci uniamo, raggiungiamo, l'esercito cartagenese raggiunge Siface ai campi Magni. C. Costituiamo a Cartagine un nuovo nucleo di raccolta truppe, diciamo Siface, raggiungici qui. D. Terra bruciata Siface, grazie per aver partecipato Scipione, se vuoi Cartagine dovrai assediarci senza rifornimenti. Spero che abbiate votato e vado a darvi le risposte. Allora, partiamo con quello che scelse storicamente Asdrubale. Asdrubale storicamente scelse la risposta B. Quindi è fondamentale avere un esercito il più ampio possibile e quindi bisogna cercare di raggiungersi Siface il prima possibile. Anche perché, detto fra noi, Siface non era mica così convinto. Si dice che in parte la figlia di Asdrubale, la bellissima Sofonisma che aveva sposato, lo convinse a continuare la guerra. In parte la notizia che stavano arrivando 10.000 mercenari celtiberi. Peccato che poi quando li contarono vennero fuori che erano solo 4.000. Ma comunque sia, insomma, queste sono piccolette. In ogni caso, la risposta B è quella che ha scelto storicamente Cartagine. La risposta B vi dà tre punti. Perché? Perché secondo Nicola Zotti la cosa migliore in questo momento qua sarebbe stata la A. Richiamando Annibale e Magone, probabilmente si poteva ancora combattere a campo aperto contro Scipione e vincere con tutte le forze e poi dopo ne riparliamo con Roma con calma. Quindi, risposta A, quattro punti e un fiore. Poi, secondo l'autore del gioco, C e D non portano invece da nessuna parte. Quindi C darebbe un punto di fare terra bruciata, abbandonarsi in faccia suo destino, eccetera, e darebbe addirittura zero. Quindi i cartaginesi scelgono la cosa non ideale, ma sicuramente la cosa che poteva tutto sommato garantirgli, almeno di riformare un esercito importante. E Scipione cosa potrà fare? Bene, Scipione ricomincia ad assediare Utica. Ricomincia ad assediare Utica, tanto ormai pare che ci abbia preso gusto, come diciamo noi a Bologna. Il campo viene esposto di nuovo davanti a Utica per controllare meglio la città e sa che i nemici si stanno concentrando presso i Campi Magni, circa 150 chilometri all'interno, una zona che Scipione non conosce. Domani vedremo insieme cosa Scipione sceglierà di fare. Come vi dicevo, purtroppo i problemi tecnici devo interrompere anticipatamente. La puntata speciale oggi non riuscirò a farla, speriamo di riuscire a recuperarla domani. Nel frattempo grazie a chi c'era, ciao Fabio, stavolta in diretta, ciao Diego e ciao a tutti gli altri che ci ascolteranno in futuro. Grazie ancora, buona serata, chiedo di nuovo scusa per i problemi, domani cerchiamo di fare tutte e due trasmissioni come d'accordo. Ciao, a presto.